Buonasera, nel corso della notte faremo ancora i conti con l'instabilità atmosferica, con rovesci e temporali diffusi che localmente potrebbero essere anche di forte intensità su gran parte del nord, specialmente sulle zone del nord-est. Anche domani avremo rovesci e temporali diffusi su gran parte delle regioni settentrionali. Nel pomeriggio i rovesci e temporali andranno a svilupparsi anche sulle zone montuose. A partire dalla giornata di domani le temperature massime sempre più inizieranno ad aumentare a causa di questa massa d'aria molto calda che entro domenica si impossesserà dell'Italia e localmente raggiungeremo i 40 gradi. Buonasera, nel corso della prossima notte avremo rovesci e temporali localmente di forte intensità praticamente su tutto il nord e poi più giù anche sulle regioni centrali tirreniche e Sardegna. Domani i rovesci e temporali si estenderanno anche alle Marche, alle zone interne del centro e al basso versante tirrenico. Attenzione perché questi temporali potrebbero essere violenti associati a grandinate e forti raffiche di vento su gran parte del nord e anche sulle regioni centrali tirreniche. Domani le temperature massime saranno in calo dappertutto, un calo che sarà più sensibile sulle regioni settentrionali. Buongiorno, la perturbazione numero 4 del mese questo pomeriggio porterà rovesci e temporali localmente anche di forte intensità associati a grandinate e forti raffiche di vento dapprima al nord ovest e poi in estensione fin verso le pianure del nord est. Tra sera e notte come vedete i rovesci e temporali tenderanno ad estendersi anche alle regioni centrali tirreniche e alla Sardegna. Una perturbazione seguita ad aria fredda proveniente dalle isole britanniche che già oggi farà calare le temperature massime al nord, ancora molto caldo al centro sud e poi entro martedì fine del caldo intenso dappertutto. Anche domani avremo molti rovesci e temporali al nord, poi più giù anche sulle regioni tirreniche, zone interne sud e Sardegna. Rimanete come sempre aggiornati anche sul nostro sito meteo.it. Avremo il rischio di forti temporali associati a grandinate e forti raffiche di vento su tutte queste zone che vi abbiamo evidenziato in grafica. Vento che oggi soffierà nelle zone temporalesche ma soprattutto forte vento di maestrale come vedete dalla grafica sulla Sardegna. Per quel che riguarda il tempo nel dettaglio dunque oggi il maltempo riguarderà soprattutto il nord e il versante tirrenico ma localmente anche l'estremo sud e la Sardegna. Anche in serata avremo nuvole sparse su tutta l'Italia mentre le piogge e i temporali continueranno ad insistere su gran parte del nord lungo il versante tirrenico, sulle regioni ioniche e localmente sulla Sardegna. Per quel che riguarda le temperature massime che oggi saranno in calo su tutte le nostre regioni proprio a causa dell'aria fredda marittima di origine polare che segue questa perturbazione un calo che sarà più sensibile sulle nostre regioni settentrionali con temperature al di sotto della media stagionale. Buongiorno! Questo fine settimana avremo il dominio assoluto dell'alta pressione. Questo significa tempo stabile soleggiato dappertutto, temperature massime in aumento infatti saranno estive intorno ai 30 gradi dappertutto. Avremo venti di scirocco in Sardegna che contribuiranno sull'isola ad un aumento delle temperature, come detto alta pressione che proteggerà tutta l'Italia. Infatti dando uno sguardo alle temperature massime previste per sabato e domenica possiamo ben vedere che appunto in Sardegna toccheremo picchi di 34 gradi, valori gradevoli dappertutto e come detto intorno ai 30 gradi. Intanto questo pomeriggio il tempo sarà ancora stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, specie al centro-sud, avremo nuvole piuttosto innocue al nord, qualche rovescio sulle Alpi orientali.